Ciao sono Matteo Pitaluga, bentornato e in questo video parliamo di adza pagamento contro contenuti gratuiti. Una bella sfida sul ring oggi e te la voglio spoilerare proprio dandoti la mia opinione subito e la mia opinione è che la combo di entrambe le cose, quindi saper creare annunci efficaci e anche contenuti interessanti, è ovviamente la migliore cosa se sei in grado di fare entrambe. Tuttavia se dovessero mettermi proprio la pistola a tempia e mi dicessero Matteo scegli una delle due, o fai contenuti gratuiti, quindi crei video, pubblichi foto, fai degli articoli, oppure fai delle ads, io ti direi faccio annunci a pagamento e tra poco ti spiegherò anche il perché, ci sono più vantaggi. Lo che però voglio farti capire è che devi diventare un maestro in entrambe le cose se vuoi avere un successo clamoroso online con il tuo prodotto o servizio. Perché? Beh i contenuti che tu fai gratuiti hanno la funzione di mantenere viva la tua audience. Tra poco ti mostrerò alla lavagna digitale i vantaggi di tutto questo. Quando tu tieni viva la tua audience ovviamente crei persone che visitano costantemente i tuoi social, vanno a vedere quello che fai. Tuttavia molte persone, compresi anche youtuberi importanti, non capiscono che con un minimo di ads a pagamento potresti prendere i tuoi migliori contenuti e farli andare là fuori, nel mercato freddo, in tutte quelle persone che non sanno che tu esisti ma che magari sono disposte a pagarti. Quindi anziché limitarti sempre a caricare contenuti e tener viva la tua cerchia di followers. Se hai anche una strategia in parallelo per espanderla sempre di più questa base di followers vai là fuori con i tuoi migliori contenuti, crei nuovi followers e con nuovi contenuti gratuiti che pubblichi ogni giorno mantieni viva questa massa e a quel punto cresci continuamente. Hai sempre persone nuove che ti trovano e rimangono perché crei contenuti di valore. Questi contenuti di valore vanno là fuori, portano nuove persone e vai su così. Quindi è molto importante che tu capisca queste dinamiche. Andiamo a vederle in condivisione qui con la mia lavagna digitale, ho scritto alcuni dei vantaggi delle due situazioni. Allora contenuti gratuiti chiaramente zero budget perché io posso pubblicare ogni giorno foto video articoli e avere persone che comunque condividono se sono bravo, se riesco a fare condividere la mia roba, creo viralità, mantengo vivo l'algoritmo. Questo è molto importante, è un altro aspetto decisivo. Cioè se io creo contenuti su base costante l'algoritmo dei social mi premia. In altre parole è meglio chi crea un contenuto al giorno o anche paradossalmente uno a settimana piuttosto di chi spara dieci contenuti oggi e poi sparisce per un mese. Quindi contenuti gratuiti mi tengono in vita i miei profili social dal punto di vista dell'algoritmo che mi premia. Questo vale per tutti i social indistintamente. Più o meno gli algoritmi lavorano tutti allo stesso modo. E svantaggi? Chiaramente io ho una visibilità limitata ed è molto lento come processo. Cioè se io prendo un contenuto valido, quindi mi sbatto, faccio un video figo sulla mia marca di occhiali, che ne so, il problema è che nessuno lo condivide perché non viene compreso la mia audience. Oppure semplicemente sbaglio l'orario di pubblicazione può capitare. Io a volte ho pubblicato dei video la mattina presto e la mattina presto per la mia audience non ho click perché molti dormono, non lo so cosa succede la mattina presto, ma per la mia audience che è più attiva la sera, essendo con molti imprenditori che mi seguono o persone che sono un po' più nottambuli, ecco, ho più interazioni la sera. Quindi ho capito che pubblicando la mattina non avevo risultati. Quindi tu fai anche il video della vita, il contenuto della vita, lo pubblichi in un orario sbagliato, non va virale. Ok? Invece se io baso il mio business si imparte anche su ads a pagamento o più velocità, ho una scalabilità quasi infinita perché con un click posso raggiungere più persone. Cioè, se io spendo 5 euro al giorno, se ne spendo 10 raggiungo il doppio della gente, ok? Ho una viralità quasi matematica e creo followers allo stesso modo. Cioè, ti sembrerà paradossale, ma creando annunci a pagamento tu generi followers comunque. Perché se io faccio il mio video figo, il mio post figo e lo sparo su un pubblico sconosciuto, se la gente vede che è fatto bene, che è interessante, poi ti segue. Ok? Quindi crei comunque una viralità forzata dei tuoi migliori contenuti. Perché se non va virale il primo giorno, magari va il secondo o il terzo, perché sto comunque spingendo uno dei miei migliori contenuti, a pagamento lo spingo, ma ottengo quella viralità che magari per un motivo o per l'altro sul mio profilo non è scattata. Ok? Quindi la prima volta che ho promosso. Chiaramente ci sono degli svantaggi, tra cui la conoscenza approfondita. Cioè, io ve lo dico chiaro ragazzi per chi mi segue, non fate ads senza aver studiato. Fatevi il mio corso all-in, ho messo anche il link in descrizione. Fatelo o qualsiasi corso che volete, però imparate a fare le ads. Non mettetevi in gioco senza avere una conoscenza approfondita di tutti gli step da fare, perché altrimenti buttate via i vostri budget. E per quanto riguarda i budget, bastano 100€ di partenza se sai quello che stai facendo. Con 100€ di pubblicità puoi fare cose incredibili, cioè puoi già portare 2-3 clienti già da subito, ok? Con un click, però devi sapere come promuoverti. Quindi ragazzi, per chi fosse interessato a capire meglio queste dinamiche, c'è il mio webinar gratuito. Ho messo il link qui in descrizione, potete vederlo, lì ti spiega bene, in questo webinar andiamo a vedere bene tutti gli step per costruire la promozione, tutto il sistema di promozione per un business online, sia per chi ha già qualcosa da promuovere e anche per chi parte completamente da zero. Quindi guardatevi questo webinar perché veramente è illuminante per capire cosa è il digital marketing. Vi mando un abbraccio, mi auguro che anche questo contenuto sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.